A circa 20 anni dall'ottenimento del marchio di OP, il pane di Altamura si appresta a essere protagonista assoluto della giornata mondiale dedicata al prodotto più rappresentativo della città del barese. È stato presentato nel Palazzo della Presidenza della Regione Puglia il ricco programma di incontri previsti ad Altamura il 16 ottobre. Quella di quest'anno sarà una giornata del pane che dovrà tener conto anche dell'aumento dei prezzi innescato dalla crisi energetica e dal conflitto in Ucraina. Ma dobbiamo riflettere sul momento drammatico che stiamo vivendo come cittadini, come imprese, come territori per le produzioni, quindi l'impatto dell'aumento delle materie prime, i costi energetici decuplicati rispetto a appena un anno fa. E quindi abbiamo bisogno di riflettere su questi temi affinché noi si esca dall'anonimato, diciamo inteso come far sentire la propria voce perché dobbiamo difendere questo patrimonio culturale. E il Consorzio per la tutela e valorizzazione del pane di Altamura DOP non poteva non cogliere queste importanti opportunità generata dalla giornata mondiale del pane, ponendo in essere una serie di iniziative, eventi, spettacoli, mostra di artisti contemporanei, il cooking show e un convegno studi, proprio per celebrare i molteplici valori che il pane rappresenta. La giornata del pane permetterà di mettere al centro della discussione uno dei comparti produttivi più virtuosi del territorio che vede nell'area di Altamura la concentrazione più alta di tutta Europa di produttori di semola rimacinata di grano duro. Domenica celebriamo non soltanto la giornata mondiale del pane, infatti celebriamo l'orgoglio di essere altamurani, l'orgoglio di essere tra virgolette proprietari di un patrimonio così grande, che è stato custodito negli anni come tradizione, come lavorazione, con le mani che hanno lavorato quella pasta. Anche l'arte sarà protagonista della giornata con una mostra collettiva di artisti del territorio della Murgia, uniti dall'antica e inimitabile arte della panificazione.